Vi avevo promesso un video sugli ultimi sondaggi prima delle elezioni negli Stati Uniti, ma ho ricevuto un breve report da JP che aveva ascoltato il video da me pubblicato ieri. Ebbene JP, oltre a fare delle interessanti considerazioni, mi ha anche dato una notizia che ritengo decisamente importante e che quindi vorrei, anzi, troverei necessario condividere con voi. Quindi vorrei oggi limitarmi a fare un breve video con la notizia e le considerazioni che mi ha inviato JP, mentre domani, magari nel primo pomeriggio, quindi molto prima del consueto orario col quale pubblico i miei video. Insomma, nel primo pomeriggio posterò un nuovo video con gli ultimissimi sondaggi, anche perché proprio si stanno verificando dei cambiamenti proprio in queste ore. E poi inizierà così la lunga notte dello spoglio delle votazioni che sappiamo già non si risolverà in poco tempo, eh? Anzi, per avere risultati definitivi ci vorranno giorni. Allora, sentiamo cosa ci dice JP. Caro Giancarlo e cari ascoltatori, so che hai già il video pronto per oggi, lunedì, per cui aggiungerò solo alcune cose. Hai spiegato bene, caro Giancarlo, come è il voto da noi. Il voto è maggioritario nel proprio Stato. Poi ogni Stato ha il suo numero di grandi elettori che esprimeranno il loro voto. Qui in California sono 54 i grandi elettori. Fino all'elezione del 2020 i grandi elettori erano 55, ma abbiamo perso abitanti appartenenti alla classe media. Si è cercato di compensare la perdita della classe media con i peones, ma non sono stati sufficienti. Sapete a chi è andato il grande elettore che abbiamo perso? Al Texas, Stato tradizionalmente repubblicano. Ma l'aspetto più curioso, per non dire più assurdo, è che, se i sondaggi sono corretti, questi californiani che si sono spostati in Texas, che come ho detto appartengono alla classe media e sono fuggiti dalla California, visto come è governata, incredibilmente, sembra, siano intenzionati a votare ancora per il Partito Democratico. Insomma, sono fuggiti da uno Stato che per loro era diventato quasi invivibile, perché amministrato dai democratici in maniera folle, e si sono spostati in uno Stato che invece è decisamente più vivibile ed amministrato meglio dai repubblicani, e loro cosa fanno? Votano ancora democratico. Ebbene, cari ascoltatori, JP spesso mi dice che il voto per il Partito Democratico assomiglia ad una droga, che dà dipendenza. Sembra incredibile, vabbè, ma comunque proseguiamo con il report. Già venerdì scorso più della metà della nazione aveva votato. Noi abbiamo votato due settimane fa. Quando dico noi, intendo dire io e i miei familiari. provate ad indovinare per chi ha votato JP e anche la sua famiglia. Dai scherzo. Attenzione ora a quel che ci dice JP, sentite. In questo momento i media ne raccontano di tutti i colori contro Trump. Vengono subito smentiti. E loro cosa fanno? Non dicono abbiamo sbagliato, no, nulla di ciò. Fanno semplicemente finta di niente e si inventano altre fandonie su Trump che poi vengono subito smentite. Perché pure invenzioni. È così. È in continuazione. Però, caro JP, qua non è che ci dai chissà quale notizia. Questo succede anche da noi in Italia. basta leggere il quotidiano La Repubblica, ma non solo. È tantissimi altri quotidiani. Noi sappiamo com'è ridotta la disinformazione. Ma ecco che ora JP ci dà una notizia che potrebbe davvero essere allarmante. Sentite. In Oregon, in Nevada e nello stato di Washington, poi apre la parentesi e scrive, non Washington DC. Spiegalo. JP, i nostri ascoltatori, conoscono benissimo gli Stati Uniti. Quindi sanno che ci sono due stati che si chiamano Washington. Uno appunto è Washington DC. DC sta per District of Columbia. E lì abbiamo la capitale. Ci troviamo lì sulla costa est, quella atlantica. Poi c'è un altro Stato che si chiama Washington, che è da tutt'altra parte, è a nord ovest, sulla costa pacifica e confinante con il Canada. E noi appunto in questo momento ci riferiamo a questo Stato, non quello nel quale c'è la capitale. Allora, torniamo da JP. In Oregon, in Nevada e nello Stato di Washington hanno già preparato la National Guard, ovvero reparti militari che sono sotto il comando dello Stato. Questo per paura di disordini. Mai vista una cosa del genere, una cosa da terzo mondo a tutti gli effetti. Al solito, ecco, JP, questo lo fa praticamente sempre, per dimostrarmi che non si inventa le cose mi invia un link che porta ad un articolo, in questo caso pubblicato dalla CNN US, cioè un articolo, attenzione, sentite il titolo, truppe della Guardia Nazionale in attesa nello Stato di Washington, in Oregon e in Nevada, come precauzione per potenziali disordini elettorali. Nell'articolo fra le altre cose si legge che per garantire la sicurezza i capi della Polizia degli Stati Uniti stanno elaborando piani senza precedenti per il giorno delle elezioni e le settimane successive. La questione è diventata urgente per le forze dell'ordine, naturalmente dopo l'insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, che ha ritardato la certificazione delle ultime elezioni presidenziali. Ma insomma, torniamo a JP perché negli Stati Uniti si continua a parlare di brogli. Sentite, già ci sono dei problemi, non si sa bene dove siano stati conservati i voti postali. Siamo alla fine del primo quarto del nuovo secolo e ci dicono che non si sa se si riuscirà ad avere il risultato la notte del 5 di novembre. E chi lo dice? I democratici, naturalmente. In alcuni Stati hanno detto che forse, ma ripeto, forse finiranno lo spoglio delle schede il 10 di novembre. Che strano, una volta con pochissima tecnologia, si votava tutti lo stesso giorno e nella West Coast in serata avevamo il vincitore, mentre nella East Coast lo sapevamo dopo la mezzanotte. Questo fino alle elezioni, come vi raccontai, nel 1996. Poi i democratici, sotto la guida del donnaiolo Bill Clinton, decisero di cambiare il sistema. La prima volta subirono una fregatura. Vi ricordate le elezioni del 2000? Per due settimane non sapemmo chi era il vincitore. Poi venne eletto Bush Junior. Ma successivamente i democratici hanno perfezionato il sistema, che funzionò benissimo nel 2020. Nel 2016 i democratici pensavano che nessuno avrebbe votato per Trump e subirono un autentico shock, come nel calcio, tanto per fare un esempio, quando si sottovaluta una piccola squadra che poi ti bate per via della presunzione che hai avuto. E allora, presumo che anche nel 2016 ci furono un po' di brogli. Ma effettivamente, come avanza questa ipotesi JP, tutte le società di sondaggio davano un tale vantaggio a Hillary Clinton che ritennero, i democratici ritennero che non fosse necessario brogli in grande quantità. Nel 2020 invece, beh, lì la fecero proprio sporca. Arrivarono a frodare a livelli praticamente mai visti in passato e solo in quel modo riuscirono a far andare alla Casa Bianca Joe Biden, che seppur oggi ha qualche problemino dovuto alla senilità, come politico è mille volte migliore di Kamala Harris. Ma vediamo come conclude JP. Però, oltre al presidente, sono importanti anche il congresso e il senato. Senza quelli il presidente ben poco può fare. I fronti dove si combatte sono quindi più di uno. Io, Giancarlo, ti lascio qui perché hai già pronto il video di domani. E allora noi non possiamo fare altro che ringraziare JP per questo suo breve intervento, e lo ringraziamo per tutti i suoi preziosissimi report.